diario di bordo della missione spaziale apollion data astrale nostromo quanto ne abbiamo data astrale pasqua siamo in viaggio da circa sei mesi ormai capitano per la precisione sono 5 mesi 28 giorni 13 ore 43 minuti e 26 secondi cazzo te l'ha chiesto bisogna essere precisi sta zitta anna scienziata siamo in viaggio da quel tempo che ha detto lei e il viaggio sarebbe dovuto durare due giorni quindi io inizio a farmi qualche domanda abbiamo sbagliato strada e se abbiamo sbagliato strada di chi è la colpa nostro omo quale colpa comunque il morale della ciurma rimane alto ieri abbiamo giocato a tombola ed è stato molto divertente anche se sospetto che l'androide abbia barato no tutti sanno che gli androidi non parano questa personalità umana te la faccio scavare via via via